Il ROV è adatto all'indagine di fondali morfologicamente complessi perché consente al pilota di fermarsi e avvicinarsi agli oggetti di interesse o di ingrandire le immagini attraverso lo zoom della telecamera. Per indagare ampie porzioni di fondali prevalentemente pianeggianti, l'ISPRA può utilizzare anche un altro strumento, il Tecno Shark, un veicolo robotico a traino. Il Tecno Shark che abbiamo realizzato è equipaggiato con una telecamera ad alta definizione, una telecamera 4K, un computer di navigazione, un sistema di posizionamento di tipo acustico, il tutto alimentato da un pacco batteria. Tutta questa strumentazione è montata su una struttura in ferro dotata di piene stabilizzatrici e di zavorra. Attraverso un cavo umbilicale lo strumento trasmette in superficie al computer di bordo le immagini che vengono registrate. Viene impiegato in aree molto più estese, pianeggianti principalmente, per effettuare dei transetti rettilinei a distanza costante dal fondo. Grazie per la visione!